Carissimi amici ben ritrovati ancora una volta sui nostri canali social e su Antenna del Mediterraneo per questo spazio dedicato a un altro evento molto interessante che si svolgerà a Milazzo il 18 e 19 agosto. Il settimo Memorial Marco Salmeri, in ricordo di questo ragazzo che ha perso la vita a causa di un incidente stradale sull'autostrada che lo portava da Brolo a Milazzo. È stata una giornata funesta quel momento sia per i familiari ma per tutti gli amici che lo conoscevano, per tutti gli amanti del calcio del territorio. Marco Salmeri aveva un grande sogno, quello di diventare un calciatore, un calciatore professionista, un sogno che si è spezzato quel pomeriggio sulla Venti. Qui siamo con il giornalista Salvino Cavallaro che sarà il moderatore della conferenza stampa di giorno 18 alle ore 12 a Palazzo D'Amico dove si spiegherà un pochettino quello che succederà in queste due giornate dedicato allo spettacolo, dedicato allo sport, dedicato alle associazioni che verranno premiate proprio al Marco Salmeri di Milazzo, un tempo grotta polifemo. Inizierei subito con il nostro giornalista che ci tiene molto a questa manifestazione, ha scritto veramente tanto, ha invitato anche lui Gianfranco Jannuz, ha invitato l'attrice calabrese La Pedatella per trasformare questo piccolo evento in un grande evento per non dimenticare la figura di Marco Salmeri. Noi intanto ringraziamo anche i genitori che ci danno la possibilità di raccontare questo Memorial, la settima edizione. Allora Salvino, ho detto due giornate e tanti argomenti. Si parla di sport, si parla di sociale, si parla di spettacolo e soprattutto ci saranno anche tantissimi artisti del nostro territorio. Certamente non è un caso questo di questo settimo Memorial Marco Salmeri che al contrario dei precedenti in cui naturalmente il calcio la faceva da grande assolutamente si è pensato di unire quelli che sono i valori sportivi a quelli culturali e artistici anche se vogliamo. No, perché poi in fondo il tema qual è? Sì, il Memorial in ricordo di Marco Salmeri, questo ragazzo che diciamo ha avuto questo, c'è stato questo incidente proprio nel momento in cui ritornava a casa dopo una partita di calcio, ha chiesto fatalmente un passaggio a un compagno di squadra e poi è finita come è andata, purtroppo ci ha lasciato in giovane età. Da questo poi nasce anche un tema di attualità che è quello che si abbina a questo Memorial, cioè ricordare le giovani vittime della strada, cioè mandando un forte messaggio a coloro i quali soprattutto in giovane età dopo le discoteche e la sera tarda si mettono alla guida della propria auto sotto l'effetto di droga piuttosto che di alcol eccetera. Quindi c'è questo messaggio culturale che va oltre quello che diciamo anche la manifestazione sportiva. E su questo si è lavorato molto, abbiamo dato questo input di Memorial tra sport, come dicevo prima, e spettacolo. Spettacolo in cui ho voluto insistere nel far venire, ho voluto per l'amicizia che mi lega Gianfranco Iannuzzo e che lui in maniera davvero quasi totale appena stato invitato qui a Milazzo a recitare il suo recital non ha esitato neanche un attimo a fare questa serata, evento assolutamente in beneficenza. Ho detto prima che il tutto inizierà alle ore 12 di giorno 18 a Palazzo Amico con una conferenza stampa in cui parteciperà anche il sindaco della città Mamertina, Pippo Midi, l'assessore Antonio Nicosia tantissimi giornalisti e tantissimi amici di Marco Salmeri. Poi alle ore 17 sempre del 18 agosto inizierà questo triangolare di calcio dove saranno presenti tre società la SS Milazzo, ci sarà la Castelbuonese, ci sarà la Messana. Tre tempi da 45 minuti per conquistare questo trofeo che è soltanto un modo simbolico per ricordare e per stare vicino alla famiglia e per ricordare Marco. Certo e come dicevamo sicuramente ricordare Marco è alla base anche attraverso la famiglia che intende sempre organizzare questo tipo di memoria proprio per non far dimenticare quella che è la figura di Marco almeno a Milazzo. Ma ti dirò che in questo parlare di questo memorial, di questo ragazzo, di questa situazione che poi è una delle tante in Europa e nel mondo, c'è sempre questo attaccamento proprio a una manifestazione che si sta allargando in una maniera tale che ti dirò che molto presto succederà che anche al Nord e più precisamente a Torino si organizzerà un qualcosa di simile, non ho la data, non ho ancora nessuna, tra le società professionistiche Juventus, Inter e probabilmente anche Torino. però questo è a divenire. Ma per dirti come questo memorial e questo spirito che c'è in questo contesto sportivo e culturale sta oltrepassando le mura di Milazzo ed è questo che si volevano proprio per dare un'immagine e un momento anche di riflessione attraverso lo spettacolo, l'arte e perché no il calcio. Dunque mandare un messaggio sicuramente importante, il messaggio lo manderanno gli artisti, così a braccio ricordo Davide Patti, il giovane cantante milazzese che ha vinto Sanremo Junior, che canterà l'inno nazionale in più ci farà ascoltare altre due bellissime canzoni, Antonio Cannistra, cantante di Torregrotta, i musicisti Nat Minutoli e Luca Sindoni, ci sono le ballerine di Danzanima che faranno uno spettacolo dedicato alla Sicilia ci saranno le Miss Reginette d'Italia, Tania Salvatore e Gaia Sottile per impreziosire questa manifestazione che avrà come madrina Ombretta Cantarelli, un'ex modella che sarà premiata insieme a Gianfranco Iannuzzo alla carriera. Sì, davvero, questa è stata un'altra chicca se vogliamo, che è nata da un'idea così della conoscenza, dell'amicizia che mi lega anche a Ombretta Cantarelli, milanese e molto attaccata, amica, simpatizzante della Sicilia anche attraverso il marito, naturalmente Gianfranco Iannuzzo, la quale mi diceva in una delle tante interviste che ho fatto e dice, sai, io la Sicilia la adoro, ma pensa che io l'ho conosciuta molto prima di conoscere mio marito perché ero venuto a fare una sfilata di moda e subito lì mi sono innamorata, non solo della Sicilia in quanto tale ma della gente sempre così ospitale, così armoniosa, è stato bello. Poi quando ho conosciuto naturalmente Gianfranco, la cosa, cioè questo mio amore per la Sicilia si è ancora radicato ancora di più e quindi l'idea di farle fare, la madrina e dare il calcio d'inizio proprio a lei che intanto, oltre ad essere un'appassionata interista, è una che di calcio se ne intende quindi è piacevole, anche in tante interviste che ho fatto con lei, proprio del settore calcistico e lei è rimasta subito entusiasta di questa cosa, si sono innamorati, così è stato piacevole, insomma. Ricordiamo anche la partecipazione dell'attrice calabrese Angelica Arterisia Pedatella che tra l'altro reciterà due meravigliose poesie in ricordo di Marco Salmeri e poi ci sono i premi per il sociale, per il primo anno verranno consegnati dei premi a tre realtà della città di Milazzo, voglio ricordare il Rotary Club Milazzo del presidentissimo dottor Attilio Andriolo, voglio ricordare l'Associazione Italiana Persone Down del presidente Roberto Chezzone stamattina mi ha chiamato, ci sarà anche lui all'80% insieme al vicepresidente Pasquale Pianese è una folta rappresentanza dell'Associazione Italiana Persone Down e poi verrà premiata la società di basket svincolati Milazzo per la promozione in Serie B interregionale. Dunque veramente tantissimi momenti da vivere, giorno 18 tutto questo al Marco Salmeri al Palazzo D'Amico la mattina con la conferenza stampa delle ore 12 e poi giorno 19 tutti al castello per questo grande recital di Gianfranco Iannuzzo, non dovete mancare anche perché l'incasso sarà devoluto in beneficenza. Certo, quindi vi aspettiamo davvero numerosi perché tutto lascia pensare a un evento di una o due giorni straordinaria davvero di calcio, spettacolo, varietà, c'è tutto e di più, quindi mi raccomando non solo a Milazzo ma anche i dintorni, venite, 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 sarà una bella serata, saranno due belle serate da ricordare. Sicuramente, giorno 18 e giorno 19, settimo membro da Marco Salmeri, facciamo rotolare questo pallone, facciamo colpire il cuore della gente ricordando che anche Marco Salmeri ha calciato più volte questo pallone e il grande sogno era quello di calciarlo anche nei campionati professionistici. Noi vi aspettiamo il 18 e il 19 agosto, il 18 agosto al Marco Salmeri di Milazzo e il 19 al teatro, al castello per questo grande recital di Gianfranco Iannuzzo. Non ci resta che salutarvi e di ringraziarvi anticipatamente per la vostra numerosa presenza. Ciao a tutti! Ciao a tutti!